È la cuffia del rottatore, è stata una osteopata. Invece è una siringa. Sono 100 euro. 100 euro d'ottore. È arrivato, eh? Uno e due. Io non vedo i miei ragoste rotto. Ti sei mangiato? Ti sto fidando più il culo. Non ho moneta. Mi dispiace. Dimmi. Hai portato la ricetta a Ferrantini? Cazzo, ma mi viene addosso. È una tragedia. Domani mattina, quando finisce il turno, devi andare... No, non ce la faccio a finire il turno. Ma non c'è nessuno che la può sostituire. Che c'è, eh? Sicuro che andrà tutto bene. Il più importante è che non dici cazzate. Delivero. Cazzo, ma se cominciamo così... Allora mi porti la cosa alla vaccinata, poi come fosse un secondo delle polpette. Ma te sei sicuro che sei medico, sì? Ecco. Che gli dici ha problemi di gas? Ha problemi di gas? Di gas? Sì, arretrati, bollette non pagate. Dite tachitirina! Tachitirina! Noi siamo qui di notte nei quartieri malfamati a salvare vita. Emergency, ma cosa stai dicendo? Che ci sono delle acque? Ma ti ho sicuro che non hai otita? Ma che otite? Vedi qualcosa? Ok. Dottore, si svegli! Il tuo paziente ha un fecaloma. Mi dica che cosa devo fare? Metti sul guanto e gli picchi un dito nel culo, va bene? E' pronto dottore? E' pronto dottore? E' trovate i guanti? Noi! Noi! Non so, come le dici. E' pronto. E' pronto.